Andando in questo nuovissimo video, siamo a ritornarti su Gacha Allora, oggi vi stavo facendo e non so minimamente come farmi Quindi ho deciso di prendere un'altra persona che non sia difficile Allora, io mi metto gli occhiali perchè sto per averli E perchè sono se non c'è più una tasta Facciamo le occhiali Facciamo le occhiali Sennò non ci vedremo ancora non ci vedremo Non so quando me le metterò Questa è molto buona Però no, non ci vedremo Non ci vedremo Non ci vedremo Ci vedremo Ci vedremo Onde Dove? Poi mi metto questa Poi mi metto questa Ok, ci mettiamo ancora Perchè non è mia se non è di ora Aspetta, non la chiudo Ma ora ancora non ce le ho Allora, non ce le ho Pa, pò E' so, perchè il signor forte e forte e forte e se lo fa E' so, perchè il signor forte e forte e per ogni parte Ma sempre lo fa Pa, patrò che cosa ha fatto allora ci mettiamo questo allora ci mettiamo questo già sembro io già sembro già io quasi la coda la coda hai fatto il compleanno oggi? ma perché? non è il suo compleanno hai fatto il compleanno oggi? allora vero? non c'è la coda non c'è la coda non c'è la coda non c'è la coda ma perché è cinese? eccolo Adam hai visto Adam? stai quella bionda eh tu e guarda che hai fatto oggi i lavoretti ti hai lasciato oggi hai fatto questi lavoretti? hai fatto questi lavoretti oggi? il pre... Leonardo? questa Adam ecco Adam ecco Adam ecco Adam dice qua Adam sta qua Adam sta qui ecco Adam eccolo eccolo vado stasi che? o no c'è che si chiama? c'è che si chiama? Eccolo Adam, eccolo qua. Eccolo Adam, qua. Hai visto Adam? Hai visto Adam? Eccolo Adam. Adam, dove sei Adam? Sei tu, sei tu, 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 tu. Ecco Adam, che hai fatto? Hai fatto colori? Che colori questo? Rosso? Lo sta giallo? Guarda Siena. Guarda l'altra. Io vado Sabrina, prendo un foglio e torno. Mamma, non so come ha fatto a chiudere gli occhi. E' una fugaccia. Ma tu stai guardando sempre questi. Guarda, chiudere gli occhi? Che ne so come mi ha fatto a modificare. Forse è proprio questo. Andiamo, andiamo a vedere. Eccolo. Iscriviti al al sesto. Ma? Miechien Miechienzo Toccato così utile Già scritto E' isso Um tinto Eh, não faço nada Allora Miechienzo 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 E o Tu freddo e freddo e sei... Tu freddo e sei... freddo e sei... Tu freddo e sei... e sei... e sei... e sei... freddo e sei... ma che ora? Dì, ma che non faccio sta cosa. questa volta per la mia carissima amichetta giulietta le femmine saremo tutte conicchiette andiamo dai, facciamolo così non crescono bene, ora lo metteremo nelle classi abbiamo quasi tutti gli occhiali c'erano alcuni che li portavano però ora li portano più allora ci avevo detto che hanno ragazzi facciato il trucco perchè non mi sembra molto tecnico non ho voluto fare anche il trucco no 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 non mi piaceva molto comunque in ogni caso dobbiamo fare ancora la mia migliore amica che è ancora finita c'è ancora appena iniziata la giulietta la giulietta è sempre felice però alcune volte piange così però piange succede sempre qualcosa che non ci va bene capito? capito così no 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 ecco perché c'era quella pozza Chef il telefono che sono qui lo intelligente due or Oh, ciao. Sì. Non l'ho visto. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guard Grazie.